signori freaky commedia horror del 2021 che onestamente era meglio che mi guardavo in streaming e poi decidevo se comprare oramai l'ho comprata e sicuramente non lo rivedrò mai più punto 6.2 non è fatta male gli omicidi sono fatti bene però cioè sì sei due ore di tempo da perdere ci può anche stare e basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale e se volete lasciate un bel like ciao ciao